Letizia, questa è la tua regione, l'Umbria, questa corsa è stata una bella vetrina per tutto il movimento? Sì, beh, è a mezz'ora da casa questa gara, quindi era quasi d'obbligo venire, però ecco, mi sono molto divertita e il mio obiettivo era soprattutto fare bene assoluta e ecco, è stato un ottimo allenamento. Che spettacolo vedere una gara ricavata all'interno di una pista? Sì, beh, qui in questa pista ho corso molte volte in questi anni e ecco, è sempre bello tornare qui anche in diverse specialità. Una dedica per questa splendida vittoria? Beh, dedico questa gara ai miei genitori che ci sono sempre e alla squadra che mi permette sempre di avere il meglio. Letizia, concludiamo, tu sei stata anche campionessa italiana, che cosa significa per te il ciclocross? Beh, il ciclocross è un'emozione veramente molto grande e tra tutte le specialità è quella che preferisco.